Ebbene ragazzi, nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di Steam Deck e non è stato semplice perché abbiamo sviluppato due video con Ferri, abbiamo anche chiacchierato un po' della piattaforma anche con Lorenzi in passato, insomma sono usciti pro e contro di una piattaforma, di un PC portatile, di una console, chiamatela come volete, che insomma da una parte ha ricevuto tante critiche e dall'altra parte invece è stata molto apprezzata. Quello che è certo è che il suo successo è ovvio, è oggettivo perché comunque ha venduto parecchio, probabilmente arriverà una seconda versione, anzi sicuramente arriverà una seconda versione, quindi diciamo che sono tutte considerazioni che possono aiutare a migliorare quella che appunto è stata questa prima prova di Valve per quanto riguarda Steam Deck. Tuttavia, pro e contro quel che è di Steam Deck, mi hanno portato a riflettere sulle alternative a Steam Deck. Esistono delle alternative a Steam Deck? La risposta è sì, però ovviamente con caratteristiche profondamente diverse, quindi insomma adesso andremo un po' ad analizzare quelle che sono le 3, 4, 5 alternative a questa piattaforma di Valve, ovviamente lo ripeto, con caratteristiche e anche ovviamente fasce di prezzo profondamente diverse, quindi insomma partiamo subito con una piattaforma che vi abbiamo già mostrato in passato. La prima piattaforma di cui vi voglio parlare è One X Player. Allora, di questa piattaforma PC portatile, come chiamatela come preferite, ve l'avevamo addirittura già mostrata in una videochiacchiera con Lorenzo circa un mesetto fa, più o meno. È una piattaforma che abbiamo testato, abbiamo, ci abbiamo anche giocato parecchio, e su cui abbiamo avuto diversi dubbi. Non tanto per la piattaforma in sé, perché chiaramente è ottima per quello che deve fare, quanto più sul fatto che noi abbiamo dubbi in generale su queste PC portatili, ecco, comunque queste piattaforme portatili, perché nel caso di One X Player non è come Sim Deck, che ha appunto un software completamente ottimizzato, ma è propriamente un PC portatile, quindi ha un hardware portatile con Windows 10 o Windows 11, quindi chiaramente i giochi devono funzionare come se fosse un normale PC portatile. Quindi cosa comporta questo? Comporta che molti titoli funzionano benissimo, altri titoli purtroppo soffrono un po' di compatibilità. Ad esempio noi abbiamo avuto problemi con Horizon Zero Dawn, abbiamo avuto problemi con qualche Call of Duty, ci sono state delle problematiche su alcuni giochi di Game Pass, però insomma, in generale funziona e tra l'altro può essere anche sfruttata molto bene anche come emulatore. Di bello ha lo schermo che è 8.4 pollici, quindi quasi 8 pollici e mezzo, 2560x1660 IPS, quindi un bello schermo, ok? Analogici asimmetrici, 1TB di SSD NVMe, quindi insomma è una piattaforma comunque completa, acquistabile sia con hardware MD o a scelta con hardware Intel. Il prezzo? Siamo su prezzi altini perché siamo dai 1000$ in su, quindi chiaramente qui bisogna stare a vostra discrezione. Ma direi di passare subito anche alla prossima possibile alternativa a Steam Tech. La prossima alternativa si chiama GPD Win 3 e di particolare al fatto che ha una tastiera QWERTY integrata nella piattaforma, quindi è possibile scrivere, è possibile utilizzarla per qualsiasi tipo di utilizzo, come se fosse appunto un PC portatile e questo è molto utile perché qualora voi voleste sfruttarla come appunto, non dico computer d'ufficio perché è sbagliato, ovviamente in mobilità, ma quanto più per prendere note o qualche altro, qualche altra insomma vostra necessità, è possibile farlo con questa piattaforma. Ovviamente non è performante come il One X Player, non è propriamente una piattaforma fatta e finita per giocare, però sfrutta Windows 10, sfrutta il Wi-Fi, ha un SSD che può essere comunque ingrandito con una SD card dedicata, può far funzionare tutti i programmi Windows, ha uno schermo comunque in risoluzione HD, quindi può essere eventualmente un'altra alternativa, anche se io non la consiglio propriamente per videogiocare i titoli AAA come Steam Deck o ad esempio come One X Player. Però insomma se state cercando un dispositivo un po' più versatile, forse questo GPD Win 3 potrebbe fare al caso vostro. Arriviamo ora a quella che è la piattaforma più performante delle alternative, anche quella che insomma in qualche modo è preferita dai super hardware player che non hanno problemi economici, quindi possono spendere quello che vogliono, si tratta della Aya Neo 2021. Non mi sembra che la 2022 sia già uscita, forse potrei sbagliarmi ma voi correggetemi, però l'ultima che sono riuscito a recuperare è l'Aya Neo 2021 Pro, che comunque è una macchina portatile, un PC portatile davvero, davvero molto potente, anche se il prezzo insomma siamo dai 1.500 in su, quindi insomma se veramente avete disposibilità economiche, questa piattaforma però fa sicuramente al caso vostro, monta un ovviamente una CPU MD Ryzen 7 4800U e quindi insomma parliamo di performance davvero davvero potenti. È chiaro che i giochi girano abbastanza meglio rispetto a Steam Deck, ma come nel caso di One X Player non sono ottimizzati come Steam Deck, quindi magari qualche titolo potrebbe persino girarvi peggio e non sto scherzando, però qui parliamo effettivamente di alternative, quindi insomma da questo punto di vista mi sembrava giusto comunque parlarvene. Ha un SSD NVMe da 1TB, quindi anche in questo caso potete installare tantissimi titoli comunque senza farvi grosse problematiche, è grande ma non troppo, siamo più o meno sulle dimensioni di Steam Deck, se non ricordo male, no forse un pochettino meno, ecco un pochettino più piccoli Steam Deck, quindi anche da questo punto di vista se non amate la grandezza di Steam Deck potrebbe fare al caso vostro. Ha uno schermo da 7 pollici e 16 GB di RAM, come per il caso di One X Player analogici asimmetrici, che io prediligo però poi qui sta a scelta, sta a vostra discrezione. La risoluzione dello schermo da 7 pollici è di 1280x800, ovviamente con il Wi-Fi. Allora, esplorate quelle che sono le alternative un po' più scontate, diciamolo, perché sono effettivamente dei PC portatili senza ottimizzazione di sorta, questa arriviamo a quelle che sono le scelte invece di altra natura e sono due. La prima è scontatissima perché mi sembra giusto comunque metterla nella lista anche se non è un PC portatile, l'altra un po' meno però cercherò di spiegarvi che cosa intendo dire con l'altra alternativa che vi presenterò. Partiamo dalla prima, Nintendo Switch OLED, sicuramente tantissima gente quando avrà detto Nintendo Switch OLED avrà stoppato il video e ha detto, no, questo qui è un imbecille, basta, non voglio neanche più sentirlo parlare. No, allora, mi sembra giusto considerarlo un'alternativa. Perché? Perché se voi volete comprare Steam Deck per giocare, bisogna capire perché la state comprando. La state comprando per giocare cosa? I AAA? O la state comprando per giocare i titoli indipendenti? Allora, perché se la state comprando per giocare i titoli indipendenti, o comunque i titoli piccolini, o comunque non troppo grandi, forse Nintendo Switch potrebbe fare al caso vostro, innanzitutto perché ha un prezzo comunque che si avvicina a Steam Deck poco meno. Poco meno, insomma, Steam Deck parte dai 430, mi sembra, mentre su Nintendo Switch OLED siamo intorno ai 330. Vi portate a casa comunque una piattaforma ottimizzata, una piattaforma che ha tantissimi titoli, tra cui anche l'esclusiva Nintendo Switch, che è vero che costano, ma comunque sia, nessuna piattaforma ha, se non in emulazione. Potete sfruttarla per giocare senza problemi, appunto, tutti i titoli indipendenti, quali ad esempio CapEd, Ori, beh, Ori non è propriamente indipendente, perché se abbiamo potuto finanziare da Microsoft, comunque ci siamo capiti. Secondo me potrebbe essere un'ottima scelta, sia per la comodità della macchina in sé, che io la trovo molto comoda, sia anche per il fatto che ha un bellissimo schermo OLED, che si vede molto bene, in HD è vero, ma comunque, secondo me, adeguato. L'unico punto è che ovviamente non è un PC, quindi di conseguenza non è possibile installare tutte quelle particolarità che invece una Steam Deck o una macchina simile potrebbe invece fare. Chiaramente ha la possibilità di connettersi online, di accedere a shop e quant'altro, non ha ovviamente il supporto a tutti i titoli AAA, come punto God of War e quant'altro, però è una possibile alternativa se state cercando una macchina che vi faccia giocare in mobilità a determinati titoli, quindi non la escluderei a prescindere. Poi è chiaro che se voi volete giocare in mobilità già con la vostra libreria Steam, già con i titoli che avete, quello è un altro conto. Però se state effettivamente decidendo di acquistare una macchina per titoli indipendenti, valutate anche Switch OLED. Infine, l'ultima alternativa, che è banalmente questo. Questo, che non è il mio telefono, ovviamente, ma sono i telefoni, ma non per giocare in titoli smartphone, attenzione, ma per giocare in cloud. Ora, io so che il cloud è ancora una, diciamo, particolarità che non tutti apprezzano, neanch'io in realtà ancora lo amo alla follia, però si sta cominciando a diffondere grazie a Game Pass, grazie a Stadia, grazie a GeForce Now, soprattutto GeForce Now per gli utenti PC, questo lo consiglio. Quindi c'è la possibilità di andare in giro, avere un telefono, attaccarci un controller e giocare in mobilità, questa potrebbe essere una possibile alternativa, senza spendere neanche tanto per i vostri titoli. È chiaro che dovete avere un abbonamento per giocare online e dovete avere anche una buona connessione, questo mi sembra abbastanza ovvio, però se non volete spendere 1000-2000€ per acquistare una One X Player o una Aya Neo Pro, o piuttosto che spenderne 430-330€ per una Steam Deck o Switch OLED, probabilmente questa potrebbe essere un'alternativa, soprattutto se magari non giocate online, in mobilità, o non volete giocare a particolari titoli troppo pesanti, ecco, io lo sfrutterei. Le connessioni stanno migliorando, la libreria cloud adesso attualmente è immensa, quindi insomma ci penserei un po'. In questo video ho cercato di raccontarvi un po' quelle che sono le alternative e le alternative a Steam Deck. Ovviamente nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate, se voi avete in mente altre alternative che sfruttate a casa, sfruttate in mobilità, qualche vostro consiglio, o magari se avete una di quelle piattaforme di cui vi ho parlato e magari ne volete parlare nei commenti, anche su Steam Deck o anche su Switch OLED e quant'altro, beh, fatemelo sapere, io ovviamente sarò come sempre lì a rispondere ai commenti e insomma a raccontarvi e a discutere con le mie idee. Noi, beh, ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao!